benvenuti in lanterna vacanze se la tua meta turistica e la sicilia da noi trovi tutto quello che ti serve alle gole della cantera abbiamo lamping e spazio tende in un'area attrezzata all'esterno potrei fare le tue feste e a dieci minuti avrai comodamente il mare taormina e a mezz'ora l'etna rivolgiti a noi non te ne pentirai i glamping sono delle tende di lusso ne abbiamo tre in questo piccolo giro ve ne facciamo vedere un paio anche perché stiamo ancora finendo di allestire tutta la zona a ciao 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 questa è l'aria esterna là sotto c'è uno spazio per una tenda vostra o per un tavolino qui a sinistra si può mettere un'altra tenda laggiù sotto questi quattro alberi ci andrà il tavolino ancora dobbiamo tagliare l'erba e di qua si va alla seconda aria come vedete c'è la tenda un camper e ci sono altri due bagni questa è la doccia questa è la nostra proprietà e di qua si arriva all'altra tenda qui potete anche mettere la vostra tenda riusciamo anche aspettare un camper tipo questo e e e l'aria qui è dedicata al parcheggio e subito lassù da dietro più in alto si possono mettere delle tende ancora stiamo finendo di fare qualche lavoro grazie a tutti questa struttura che vi ho fatto vedere si trova vicino alle golle dell'Alcantara a 10 minuti da giardini Naxos e da Taormina e a mezz'ora dal grandissimo vulcano Etna che si trova dietro quelle montagne grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti